Il torino trova nel Milan suo ultimo vincitore, un rivale degno del nome. Primo tempo, oggi lavora Rossetti. Per 23 minuti, rete vergine. Poi Gabetto ne ha trovato la via. E alla mezz'ora sul centro di Mazzola da destra, Orsola segna il secondo gol. Ma a due minuti dal riposo, il Milan ridurrà il distacco. E la ripresa dirà quasi sempre, Milan, Milan! Porco Champini, salia minga mal chiudere il campionato con un simile pareggio. Il torino, crinciu, cala un sipario di ferro con un gioco se occorre di ferro. Cominciato il lavoro per Baciga, che se la sbriga in bellezza. Eto è uno scherzo per lui. Antonini e Mazzola li hanno scritti in faccia, nove mesi di campionato. Tempo di addaccare le scarpe al chiodo. Grazie a tutti.